Seconda parte del telegiornale. In occasione della ricorrenza del sequestro di Aldo Moro, la casa editrice Nutrimenti pubblica Via Fani ore 9.02, un modo per ricordare quel tragico giorno attraverso le voci di coloro che quella mattina, loro malgrado, si trovavano lì. È un volume scritto a quattro mani dal giornalista fasanese Romano Bianco e dal brindisino Maglio Castronuovo. Ce ne parla Vincenzo Lagalante. 32 anni fa la trucidazione dei quattro elementi della scorta dello statista Aldo Moro e fra questi il fasanese Franco Zizi. Era il 16 marzo 1978. A distanza appunto di 32 anni, il giornalista fasanese Romano Bianco esordisce in libreria con Via Fani 9.02, un agile volumetto a quattro mani scritto con Maglio Castronuovo, edito dalla Nutrimenti. Via Fani 9.02, quale è la novità di questa solda? Sì, la pubblicistica su Via Fani ormai è sterminata. Nell'intento di fare qualcosa di nuovo abbiamo illustrato le 34 testimonianze oculari del 16 marzo e dei giorni immediatamente precedenti e successivi, mescolandole con un filo conduttore narrativo. Sono queste quindi le due novità del nostro lavoro. Il fatto che per la prima volta parlano proprio i testimoni e poi che il libro è adatto sia agli appassionati di narrativa che ai lettori di saggistica, proprio perché si svolge praticamente su due piani. Quando ha maturato l'idea di scrivere questo libro e perché a quattro mani? L'idea è nata progressivamente. Io mi interesso del caso Moro e più o meno di tutta la storia dell'Italia degli anni 70 da quando ero ragazzo. Man mano che leggevo le opere di giornalisti, scrittori storici, è maturata in me la voglia di poter dare anche il mio contributo alla ricerca di quei brandelli di verità che faticosamente stiamo strappando uno per uno, abbiamo strappato uno per uno nell'arco di 32 anni. Ma quello che mi ha proprio dato la spinta decisiva è stato l'incontro con Manlio Castronuovo che è il coautore del libro. Due anni fa in occasione del trentesimo anniversario ho organizzato un convegno presso il club online La Stanza di Ulisse, era appena uscito il primo libro di Manlio Castronuovo che mi era molto piaciuto e poi che lui era di Brindisi, quindi lo avevamo qui vicino, l'ho invitato come relatore. Abbiamo scoperto una visione comune di quel periodo e abbiamo deciso di mettere in comune anche le nostre professionalità, la mia di giornalista e la sua di appassionato e detentore di un archivio veramente sterminato, sia di materiale che anche di conoscenze e quindi dal nostro incontro è nato questo libro.